Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono andrea di scommesse.commenti e recensioni.com e se mi chiamo al cielo vi regaliamo ogni settimana i nostri pronostici gratuiti sulle partite di serie A e non solo. Oggi infatti siamo qui per la ventesima giornata di serie A. Prima di cominciare però vi ricordo due cose importantissime. La prima è quella di mettere like a questo video e iscrivervi al nostro canale e la seconda è quella di guardare video fino alla fine per non perdervi tutti i nostri pronostici. Detto questo cominciamo con la schiena di oggi. La prima partita è Cremonese-Inter 2. Nero-azzurri reduci dalla clamorosa sconfitta a Casalinga per 1-0 contro l'Empoli e definitivamente fuori dalla corsa Scudetto. Grigio-rossi carrivan dal pareggio per 1-1 in trasferta a Bologna. In classifica l'Inter è quarta grazie a 38 gol fatti e 25 subiti. La Cremonese invece è ultima con 8 punti e non ha ancora vinto in questo campionato. Gli ultimi 8 precedenti vedono 7 vittorie Inter e un pareggio. Questa Inter tonata la pazza Inter con l'arrivo di Nzaghi sulla panchina deve per forza fare bottino pieno allo Zini per restare in corsa per un posto Champions. Per noi quindi è 2 fisso, pagato ben 1,50 volte la posta, ovvero un investimento da ROI potenziale del 50%. Seconda partita, Atalanta-Sampdoria 1. Orobici carrivan da Rocambolesco pareggio per 3-3 contro la Juve. Blucerchiati, reduci dalla sconfitta esterna per 1-0 contro l'Udinese. L'Atalanta è al momento sesta in classifica con 35 punti, frutto di 37 gol fatti e 23 subiti, mentre la Samp è penultima con solo 9 punti fatti grazie a 8 gol fatti e 32 subiti. Gli ultimi 42 precedenti recitano 18 vittorie per l'Atalanta, 5 pareggi e 19 vittorie Samp. L'Atalanta sembra tornata la macchina da gol delle stagioni precedenti, mentre questa Samp è in crisi dalle prime giornate del campionato. Quindi noi mettiamo solo un uno fisso, piazzato oggi a 1,35 volte la posta. Terza partita di oggi, Napoli-Roma 1x. Partenopei, reduci dalla loro vittoria numero 16 sulle 19 partite disputate, 2-0 in trasferta a Salerno. Giallo-Rossi che arrivano dall'ottima vittoria per 2-0 fuori casa contro lo Spezia. Questo Napoli ha ormai in mano la Scudetto avendo girato a 50 punti e a più 12 della seconda classifica in Milan. Nessuno può più fermare lo spallettone tricolore. Gli ultimi 47 precedenti vedono 15 vittorie Napoli, 12 pareggi e 20 vittorie Roma. Dopo la nostra consueta riunione di redazione abbiamo deciso di puntare sulla doppia chance 1x, ovvero vittoria Napoli o pareggio. Passiamo ora ai risultati esatti della ventesima giornata di Serie A. Prima partita Milan-Sassuolo su cui abbiamo pronosticato il 2-1 o 2-0 pagati 8-50 e 8-50 su SNAI. Seconda partita invece Juventus-Monza dove abbiamo pronosticato il 2-1 o 2-0 pagati 8-30 e 7-30 su Marathon Bet. Terza e ultima partita Napoli-Roma dove abbiamo pronosticato il 2-1 o 1-1 pagati 8-40 e 7-60 su Eurobet. Prima di continuare con i pronostici volevo ricordarvi che se volete tenere il bonus di SNAI da 325€ dovete cliccare sul primo link in descrizione. Ora vi mostro come fare. Se siete da PC dovete scorrere il video, cliccate sul primo link in descrizione, dopodiché vi si aprirà questa pagina. Ora cliccate su Avanti e compilate i campi richiesti. Se invece siete da cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra. Poi cliccate sul primo link in descrizione, vi si aprirà questa pagina, cliccate su Avanti e compilate i campi richiesti. Vi ricordo inoltre che tutti i bookmaker presentati nel nostro canale sono legali al 100% e in possesso di licenza rilasciata dall'Agenzia Dugani Monopoli che ne garantisce sicurezza e affidabilità. Eccoci invece ora arrivati ai consigli extra per la ventesima giornata di Serie A. Prima partita Bologna-Spezia-Under 3,5. A seguire Empoli-Torino-Under 3,5. Milano-Sassuolo-1x. Lazio-Fiorentina-Under 1,5. Eccoci invece ora arrivati alle scommesse combo della giornata di oggi. Le due partite in questione sono Juventus-Monza e Napoli-Roma. Per la prima partita ovvero Juventus-Monza abbiamo puntato su 1-1 più Under 3,5 quotato 2,25. Mentre per Napoli-Roma abbiamo deciso di scommettere su 1-1x più Over 1,5 quotato 1,50. Quindi in totale la quota finale sarà 3,37 e andando a scommettere 10 euro andrebbe a vincere 33,75 euro. Per concludere il video ecco a voi le due scommesse segrete di oggi. La prima scommessa è Lautaro che fa almeno un tiro in porta in Cremonese-Inter. In questo caso la nostra scommessa andrà in cassa se Lautaro Martinez tirerà in porta almeno una volta, che sia gol, tiro parato o palo, in trasferta contro la Cremonese di Vallardini. Mentre la seconda scommessa è risultato esatto anytime 1-0 in Napoli-Roma. Questa bet sarà vincente se in qualsiasi momento della sfida Napoli-Roma il risultato sarà di 1-0 per i ragazzi di Spalletti. In pratica se Napoli andrà in vantaggio in casa contro la Roma di Murigno noi andremo in cassa. Prima di concludere il video però vi ricordo una cosa importantissima. Se volete tenere il bonus di 330 euro su Golbet mi raccomando cliccate il secondo link in descrizione. Ora vi mostro come fare. Se siete da computer dovete scorrere il video, cliccare sul secondo link in descrizione. Dopodiché vi si aprirà questa pagina. Ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Se invece siete da cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra. Dopodiché cliccate sul secondo link in descrizione. Vi si aprirà questa pagina. Ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Per oggi è tutto. Se ti è piaciuto questo video ti invito ad iscriverti al canale. Attivare le notifiche cliccando sulla campanella e condividere il più possibile in modo da far vincere anche i tuoi amici. Buone scommesse!